Ciao a tutti e ben ritrovati, spero stiate tutti bene. Oggi torniamo a parlare di intestino, quindi di morbo di Crohn e di reptocolite ulcerosa. Per chi non avesse mai visto un mio video, io non sono né un medico né un gastroenterologo e questa è una premessa che mi pare obbligatoria, sono semplicemente Gianni, una persona di 42 anni che dal 1999 convive con queste patologie. Siamo a gennaio 2023 e nei prossimi giorni andrò a sottopormi in primo luogo a un'ecografia, successivamente al classico esame del sangue con campione delle feci e poi alla visita periodica di controllo dallo specialista. Partiamo subito dall'ecografia perché è un esame che non faccio da molti anni, anche perché nel 2017 ho avuto una forte reacutizzazione e quindi abbiamo fatto più che altro colonoscopie. Vi lascio qui sopra il link all'ultima, quella di un anno e mezzo fa. La cosa che noto, avendo qui in mano il foglio relativo alla preparazione, è che sono cambiate un po' di cose. Qualche anno fa per prepararsi a un'ecografia addome era necessaria una dieta povera di scorie e successivamente al digiuno preesame. Adesso è sufficiente digiunare almeno otto ore prima di sottoporsi all'esame e di bere almeno un litro d'acqua non gasata nell'ora proprio precedente all'ecografia. Direi che come introduzione ci siamo, ci vediamo nei prossimi giorni per andare a vedere come si svolgerà l'esame, come andrà e poi tutto il resto. 8 e mezza passate da un po', preparo l'ultima spaghettata e poi inizia il digiuno, in realtà la visita è alle 10 e 20 quindi ci sto dentro con le 8 ore. Già preparato il litro d'acqua che in realtà è un 9,50 ma vabbè, verrò un bicchiere in più o due e buonanotte. Ecografia fatta, adesso c'è un bel sole quindi penso uscirò in bici, dopo vi racconto tutto. Ciao! Eccomi qua! Allora, sì, la giornata era troppo bella ma tanto voi il video lo vedrete tutti insieme quindi perderete se non 5 secondi. Com'è andata questa ecografia? Tralasciando il classico ritardo e la quasi esplosione della mia vescica, l'esame in sé è durato circa 15-20 minuti. Per chi non avesse mai sentito parlare di un'ecografia o non ne avesse mai fatta una, ne ho già parlato in un altro video che vi lascio qui o qui, vabbè, dove apparirà. Per farla molto molto semplice è un esame che si svolge da sdraiati su un lettino, viene sparso del gel nella zona interessata, quindi nel mio caso sull'addome e c'è un macchinario con vari scanner collegati che ci vengono poi passati nelle zone interessate. Non è un esame intrusivo come può essere una colonoscopia, l'unico fastidio può derivare dalla pressione ma lì dipende in che stato è il vostro intestino oppure come vi dicevo dalla vescica piena, ma quella in realtà una volta esaminata quella zona si può chiedere di andare in bagno e continuare poi con il resto. Nel mio caso specifico era mirata ad andare a vedere le anse intestinali e la zona idiocecale, quindi in realtà come mi hanno poi detto dopo potevo anche non bere tutta quell'acqua. La diagnosi, il referto ce l'avrò tra tre giorni, ma sentendo parlare perché insieme al dottore c'erano anche due dottoresse più giovani che facevano pratica, la situazione è abbastanza sotto controllo, le misure delle pareti dell'intestino, quindi l'inspessimento dovrebbe essere nella norma, però ripeto un tempo di ricevere il referto e vi aggiorno. Ok, diagnosi ritirata, se vedete il naso rosso non è perché sono ubriaco, visto che non bevo, ma perché finalmente dopo tanti anni sono riuscito ad andare in montagna a fare snowboard, un fantastico cd, probabilmente sanno che ho appena comprato una playstation nuova e quindi servirà a quello, bando alle ciance. Allora, si rileva l'invento... Ok, non si osservano evidenti anomali in spessimenti di parete nei segmenti intestinali esplorati, sia del piccolo sia del grosso intestino, significativi per la diagnosi di IBD, né segni di versamento liquido o di raccolta in cavità addominale. Allora, in attesa della visita dello specialista tra un paio di settimane ormai, direi che non ci dovrebbero essere cose brutte, ma situazione abbastanza sotto controllo, comunque aspetto la conferma dello specialista. Ok, esami del sangue e delle feci già pronti, già scaricati dal sito della regione, i valori sono tutti buoni, anzi alcuni addirittura migliori della passata visita di maggio del 2022. L'unico ancora un pelino non allineato è quello della calprotettina, che in realtà è il valore tra i più importanti perché indica lo stato di infiammazione dell'ultimo tratto dell'intestino. La cosa buona è che dovrebbe essere 50, a maggio era 609, adesso è 60, 65, quindi direi che anche quello è migliorato. Io sono vestito così perché sto andando in montagna, e venerdì, quindi tra cinque giorni, ho la visita e quindi poi chiudo il video. Sonno epico! Visita fatta, torno a casa e vi dico un po' come è andata. Comunque è tutto a posto. Ok, allora, il colpo di scena di questa visita di controllo in realtà è che il mio gastroenterologo, che mi segue ormai da più di 20 anni, è andato in pensione, quindi tanti auguri a lui. A sostituirlo due dottori, uno che conosco già da qualche anno e un'altra nuova. Passando ai fatti, la diagnosi è malattia di Crohn, ileodistale, pancolon, diagnosi 2000, con risposta clinica a Ustechinumab. Fine dei fatti. Per farla ancora più breve, come vedevamo sia dall'ecografia che dagli esami del sangue e delle feci, la situazione è sotto controllo. La terapia resta invariata, quindi farmaco biologico, Stellara, Ustechinumab ogni 8 settimane, il Pentacle che è l'antinfiammatorio ogni giorno, il Topster a serie alterne, gli integratori possiamo diminuirli, perché sia la B12 che l'acido folico che la vitamina D vanno abbastanza bene, quindi nient'altro. Come al solito, spero che il video vi sia piaciuto, ma soprattutto che per alcuni, o spero molti di voi, sia stato utile. Se avete dubbi riguardo gli esami, le terapie, eccetera, sempre premesso che io non sono un medico, ma mi affido ai medici, chiedete pure qui sotto nei commenti. Direi che la prossima visita è a luglio 2023, ma penso di pubblicare qualche altro video su qualche altra cosa. Ok? Alla prossima! Ciao a tutti!